E bello a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video Oggi farò vedere l'unboxing delle cuffie col microfono Quindi niente ve lo faccio vedere Buona visione Non ci credo Sciolta la carta E sto spensando Eccole con le nostre cuffie Sono arancione Io le ho ordinate blu Forse è solo la confezione arancione Io spero che sia solo la confezione arancione Perché io le ho ordinate blu Vediamo se mi stanno meglio Sono bellissime Sono confortevoli Il microfono E' bello Una cosa Andiamo a provarlo sul pc Ok ragazzi Abbiamo acceso il nostro pc Qua c'è il mio benissimo mouse Macchina E vediamo le cuffie C'è per di tutto Proviamo Le luci Quindi le abbiamo sotto coso Un'attimo 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 C'è il contrario Sono bellissime Che figo Guardate Sono veramente belle Poi c'è qua il microfono C'è il cosetto Sono veramente delle cuffie bellissime Ok ragazzi Allora Ora Io L'audio Lo sto registrando Con questo microfono Insomma Il microfono E' veramente Buono Ma non nel senso Che lo mangi No E' buono nel senso Che funziona Veramente bene Infatti Ora mi sentite Bomba Vabbè Insomma Questo è stato L'unboxing Delle cuffie Bellissime Guardate Insomma E Niente Il video è finito Mettete Like Mi raccomando Se no Se no Se no Mi arrabbio E E Quindi Ciao 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 Ciao